Silvia Gazzotti? È vero che i fallimenti insegnano, ma i successi insegnano di più. Esatto. Ciao, io sono Silvia, sono emozionatissima, siete proprio wow, quindi basta, chiudo qua. Allora, oggi vi parlo di questa cosa, cioè molto spesso si dice sbagliando si impara, ok? Però la mia idea, sul quale mi piacerebbe che rifletteste, è che invece si impara molto di più dai nostri successi e tutti noi ne abbiamo tanti da cui poter imparare, da cui poter trarre delle risorse. Ho preso alcune foto da internet, quindi mi perdonerete per queste foto un po' terribili. Partiamo dagli errori, ok? Che cos'è un errore? Sono andata sull'etimologia, quindi errore deriva da errare, che vuol dire vagabondare. Quindi capite che già nell'etimologia della parola c'è l'idea che se faccio uno sbaglio, se faccio un errore, questa cosa un po' mi blocca, mi lascia lì a girare, a girarci attorno, a non sapere bene cosa ci devo fare, ok? E se andiamo sull'etimologia invece di sbaglio, il concetto è molto simile, nel senso che nello sbaglio c'è una distanza tra quello che volevo raggiungere e quello che in realtà ho fatto. Mi tremo la voce, sono veramente emozionatissima. Perdonatemi. Non si sente? Ah, ok, grazie, meno male. Bene, grazie per il feedback. Quindi dicevo, gli errori, gli sbagli, da qualsiasi parte la prendiamo, ci danno l'idea che, ok, è successo qualcosa, probabilmente di negativo, e questo qualcosa non ci aiuta più di tanto perché ci lascia lì a pensare, a rigirare attorno. Provate anche proprio a immaginare, sarà successo nella vostra vita da freelance o comunque da professionisti di aver fatto un errore. Ce l'avete in mente? Non deve essere una cosa gigantesca, può essere anche una cosa piccolina. C'è? Ok. Allora, provate a pensare, adesso poi ci arriveremo, che probabilmente da quell'errore sicuramente avete imparato qualcosa, ma non è stata un qualcosa di veloce, c'è stata sicuramente una prima fase di blocco. Se invece pensiamo ai successi, successo significa è successo qualcosa con un buon esito, ok, quindi anche qua, attenzione, i successi non devono essere ho vinto la lotteria o scalato la montagna. Tutti noi nella nostra vita abbiamo attraversato tantissimi successi nella vita professionale, ma sicuramente anche nella vita privata. Quindi il successo è, ho fatto qualcosa che mi è venuto bene, magari mi sono portato a casa un cliente, magari un preventivo è stato approvato, sono riuscito a fare quella cosa, sono riuscito a fare un talk al freelance camp, ok, quindi ho fatto qualcosa che è andato, è avuto un buon esito, sempre secondo una mia valutazione o secondo dei feedback che mi sono invece arrivati. Allora, cosa succede? Che errore è successo quando ci capitano nella vita, si portano dietro delle emozioni, dei vissuti, delle cose che appunto sono delle conseguenze. L'errore tipicamente si porta dietro la paura del giudizio perché, oh cavolo, ho fatto quell'errore, chissà cosa pensano gli altri di me. Il blocco, nel senso che appunto mi fermo, mi blocco, che devo fare, non riuscirò mai più a lavorare, ho fatto un errore terribile, i clienti non mi richiameranno più, adesso non so che cosa avete pensato nella vostra testa, però potrebbe esserci che questa cosa vi ha indotto ad avere un momento di stop. Vergogna, rabbia, delusione, insomma, vedete che lì ho fatto un po' un elenco, queste ve li ritroverete, di tutto quello che può succedere tipicamente dopo un errore. Quando invece sperimentiamo un successo, e anche qui vi invito a pensare a un caso concreto di qualcosa che vi è successo, che avete interpretato proprio come un successo, un momento vincente, qualcosa che ha funzionato, il successo si porta dietro alcuni aspetti che invece sono tipicamente più positivi. Quindi ce l'ho fatta, quindi una sensazione di forza, di potere, di responsabilità su quello che è successo, energia, autostima, che sono invece, rispetto a quella che abbiamo visto prima sull'errore, delle sensazioni, dei pensieri che sono positivi e che ci aiutano. Vediamo anche qua un esempio. Ho preso, ripeto, questa foto da internet, terribile, non lo so. Che cosa vi sembrano? A me sembravano degli incensi, giusto? Ok. Non so se erano degli incensi o delle fiaccoline, quelle tipo fuochi d'artificio, quelle cose che sono natale, però mettiamo che siano degli incensi. Possiamo prendere questa foto e interpretarla in due modi. C'è stato un errore perché gli incensi non hanno bruciato completamente, ok? Quindi qualcosa è andato storto. Adesso ovviamente non è un errore grandissimo, però ho cercato una foto un po' ambigua per farvi aiutare a ragionare. Quindi questi incensi non hanno bruciato come dovevano, si sono spenti e quindi qualcosa è andato storto. Se erano dei fuochi d'artificio magari non sono partiti, no? Oppure possiamo invece interpretarla positivamente, quindi c'è un successo, in realtà hanno fatto quello che dovevano fare, hanno bruciato fino a un certo punto perché così era giusto che facessero e quindi è andata bene. Allora, l'interpretazione di questa situazione dipende da un concetto che si chiama locus of control. Che cos'è il locus of control? È il luogo dove noi attribuiamo la causa delle cose che ci succedono. Cioè fondamentalmente potremmo pensare che, mettiamo nel caso dell'errore, si è spento perché c'era il vento, quindi non è colpa mia, è colpa del vento, del meteo, di qualcos'altro. Oppure si è spento perché io non sono stato bravo a mettere questi incensi in un luogo riparato. Oppure potrei invece pensare nel caso in cui interpretassi questa scena come un successo, quindi una cosa positiva, hanno bruciato correttamente perché per fortuna non c'era così tanto vento, oppure hanno bruciato correttamente perché io li ho messi in un posto riparato. Si capiscono i quattro scenari del quale vi parlo? Allora, cosa succede? Che ciascuno di noi, quindi vi ho fatto alcuni scenari che andavano prima, nel primo caso, a parlare di un locus of control esterno, quindi non dipende da me, è successo per caso, è stata la fortuna, quindi non so, il cliente ha approvato un progetto, e cavolo mi è andata bene, si vede che aveva proprio bisogno di qualcuno che lo aiutasse. Oppure non l'ha approvato, e vabbè non è colpa mia, è lui che non mi ha dato le informazioni, o è lui che è un tipo difficile. Nel caso invece del locus of control interno, io mi sento responsabile di quello che mi succede, quindi il cliente, ripeto gli incensi non sono un gran esempio, quindi magari con il cliente viene meglio, il cliente ha approvato il progetto, sono riuscita a fare questa cosa importante esterno perché è una botta di fondoschiena, ok, per fortuna aveva voglia, quindi ok, oppure locus of control interno perché io sono stato bravo, perché io ho preparato un buon preventivo, perché mi sono impegnato, perché sono riuscito a spiegare bene il mio progetto, e quindi questa cosa dipende da me. Avere e lavorare su un proprio locus of control interno ovviamente ci aiuta, perché se noi interpretiamo le cose come una nostra responsabilità, ovviamente la nostra possibilità di intervenire sulle situazioni ci aiuta molto. E su questo ribadisco che i successi ci danno molte risorse, perché anche lì quando ci succede qualcosa, se noi cominciamo a pensare cosa ho fatto io in quell'occasione per farlo andare bene, come mi sono comportato, cosa ho messo in campo, magari mi sono informato, ho raccolto delle informazioni, cosa, quale delle mie risorse che già ci sono dentro di me ho utilizzato in quel frangente. Questo ci permette di dire bene, quella risorsa che già c'era e c'è ancora, perché c'è ancora dentro di me, la posso utilizzare. E questo vale nel campo professionale, ma non solo, perché ovviamente quella risorsa che c'è dentro di me può essere che io la vada a pescare in un campo extralavorativo. Faccio l'esempio, magari io nella vita sentimentale sono una persona molto coraggiosa, e cavolo, come ho fatto quella volta là andare a conoscere quella persona o farmi quell'amico che anche se avevo un po' paura. Quella volta ci sono riuscito, quindi posso utilizzare quella risorsa e quello strumento anche nel campo lavorativo, perché quella cosa dipende da me. Sta a me, quindi locus of control interno, utilizzarla e tirarla fuori per gli obiettivi che mi sono dato. Ditemi se non si capisce, quindi a seconda di come noi interpretiamo le cose, andiamo a dare delle attribuzioni e andiamo a comportarci di conseguenza. Allora, sul locus of control diciamo che un po', adesso cerco di semplificarvi la cosa, un po' ci si nasce, nel senso che per abitudini di vita, esperienza, famiglia ci hanno insegnato delle cose e noi siamo cresciuti con una certa forma mentis, però si può cambiare, nel senso che se noi cominciamo a ragionare sul cosa ho fatto quella volta, come ci sono riuscito, e ribadisco soprattutto pensando ai successi, perché è lì che c'è la vostra forza, lì c'è il quando ci siete riusciti, lì c'è l'impegno che ci avete messo, e lì ci sono un sacco di risorse da poter utilizzare in un'altra situazione. Quindi come noi interpretiamo ci aiuterà a dare un esito, se invece noi pensiamo, che succede, non dipende da me, questa cosa non è colpa mia, quella volta lì è successo così, ma non è colpa mia, che facciamo? Abbiamo perso potere, perdiamo il potere di agire sulle situazioni, perché non dipendono da noi. Datemi di segura la testa? Sì, ci siamo, ok, perfetto. Ragionare sui propri successi, sulle volte in cui ce l'abbiamo fatta, è un po' come avere tante frecce al proprio arco. Ce l'ho fatta, è già andata, ho fatto delle cose, magari in un ambito diverso, in una situazione diversa, ma quella volta mi è andata bene, quindi quella freccia al mio arco c'è ancora, e io la posso ritirare fuori e riutilizzare. Non è ovviamente una cosa immediata spostare il proprio locus of control, non vi sto dicendo, da domani cambiate tutto, con due pensieri ce la facciamo, cioè ci vuole del tempo, però se già cominciate a ragionare sulla vostra responsabilità nelle situazioni, fa la differenza. E ricordate anche una cosa, noi attribuiamo un locus of control interno o esterno a seconda, pensate voi, se ci succede un errore o un successo, perché tendenzialmente quando c'è un errore noi attribuiamo un locus of control esterno, non è colpa mia, è una questione di autostima, ci sono una serie di condizioni e congiunzioni astrali che hanno fatto sì che io non ce l'abbia fatta. Quando invece è un successo, tendenzialmente attribuiamo un locus of control interno, quindi è merito mio perché ho fatto un sacco di cose e mi sono impegnato, quindi attribuiamo cose diverse a seconda delle situazioni, ma in generale spostare il nostro pensiero da non dipende da me, è colpa del governo, è colpa delle tasse, è colpa da quello che non possiamo controllare, a quello che invece noi possiamo fare e che abbiamo già fatto, ci aiuta davvero a tirare fuori tante risorse. E per concludere quindi, concentrarci sui successi, quindi non so, fatevi un elenco, ripensateci, andate a ragionare, ripeto, non su successi incredibili, perché anche qui secondo me il web ultimamente ci abitua al fatto che il successo vuol dire grande fatturato, grandi premi, grandi cose. I successi sono delle cose veramente a volte quotidiane, piccolo. Ce l'ho fatta, ho preso il treno, quella cosa è stata un successo, ho fatto qualcosa di nuovo, ci sono riuscito. Ho conosciuto una persona al freelance camp che vedevo online e sono andata a parlargli, quello è un successo. Quindi i successi ci aiutano ad aumentare la nostra autostima e la sensazione di efficacia, quindi di poter riuscire a fare le cose. Ci aiutano a trovare delle risorse, delle soluzioni, perché in passato ce l'abbiamo già fatta, in una situazione simile o in qualche contesto che poteva in qualche modo assomigliare, e quindi posso ancora farcela. E ci fanno partire da una posizione di potere, potere che non si intende come potere relazionale sugli altri, ma potere di poter fare. Se io sono responsabile e so che posso utilizzare degli strumenti, questo mi permette di attirare a me potere e potercela fare nei miei obiettivi. Sono stata super sintetica, vi ringrazio. Grazie, grazie mille.